La roba, il sulemano, Dottor Vintage! Il direttore artistico più premiato della capitale, live performer alla Music Covers di Miami, al Festival di Musica Dance di Amsterdam, premi Oscar per i film La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino, maestro di cerimonia dell'unica madre italiana del tour dei cool and the gang, special guest dei migliori e grandi d'Italia. Anima e rianima e vento e sfori del gruppone, qui per voi questa sera, Mister Paolo Pasquali, il Dottor Vintage! Sulemano! Sulemano! E' il sabato vintage della capitale e voglio sentire l'urlo di tutti quelli nati negli anni 80! Vintage! Vintage! A Bucciardi! Vintage! Vintage! E allora sentiamo l'urlo di tutti quelli come me nati negli anni 70! A Bucciardi! E allora vi dimostro che la serata è vintage, vero Sly? Vintage! 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 E allora sentiamo l'urlo di tutti quelli nati negli anni 60! Vabbè non fa niente, fra 5 minuti non andiamo a casa Ok, attenzione, sicuramente non ci sarà nessuno nato negli anni 90 Fate ancora tempo a cambiare locale Ma soprattutto la cosa che ci interessa di più Voglio sentire l'urlo di tutti quelli che non trombano da una settimana Via! Questo mette d'accordo un po' tutti Secondo me tu pure un po' di una settimana Attenzione, facciamo entrare loro Loro sono bellissime, sono 4 Ma soprattutto sono 4 Facciamo un applauso, loro sono le Vintage Angels Grazie! Grazie! Oh Grazie a tutti.